Sospendere davvero per almeno 24 ore tutti i conflitti mondiali e consentire l'attuazione di programmi umanitari alle popolazioni colpite dalla guerra. L'auspicio è della Lord Byron New Frontier che con altre associazioni di volontariato promuove da anni il Peace One Day, una grande manifestazione nell'ambito della giornata internazionale della pace. Tra i testimonial dell'evento organizzato anche a Bari, il noto attore Gianmarco Tognazzi. Può sembrare un'utopia, un giorno di pace in tutto il mondo sarebbe una cosa auspicabile e nel mio piccolo se posso dare un contributo lo faccio ben volentieri, anche se non dipende da me la pace purtroppo. Sono popoli un po' sfortunati visto che non c'è un sistema democratico in cui le nazioni adesso stanno combattendo perché ottengono almeno un po' di democrazia ed ecco che le Nazioni Unite sostengono non soltanto questi popoli che sono così sfortunati come dicevo prima ma sensibilizzano tutta la comunità internazionale perché ci siano aiuti e considerazioni particolari fatte per questa povera gente. Siamo qui da 40 anni a diciamo promuovere la nostra lingua ma se avete notato fuori la bandiera adesso non è la bandiera inglese è una bandiera multicolore perché le lingue come i popoli sono di tutti i colori dobbiamo capire di più ormai l'inglese è un dato di fatto chi non sa l'inglese è come chi non sa usare i computer ma dobbiamo andare oltre quindi trilinguismo e plurilinguismo è il nostro obiettivo.